Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dallo sfondo, in questo video andremo a vedere la mia collezione di titoli che ho per Nintendo Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Non parlerò ovviamente di questi titoli in questo video, perché sennò viene un video veramente troppo lungo, non mi soffermerò più di tanto sui titoli, ma appunto se ci sarà bisogno farò dei video approfonditi per ogni titolo. Altra cosa da specificare è che in questi video non vedremo i titoli della serie Pokémon, perché per quelli ci sarà un video in un futuro dove andremo a vederli tutti assieme in quel video lì. Un'altra cosa che vorrei specificare è la differenza tra queste tre cartucce, che si distinguono in questo mondo tranne appunto quelle Pokémon, che sono colorate diverse, però queste tre cartucce hanno una loro particolarità. Queste qua grigie sono cartucce del Game Boy, che ovviamente sono compatibili anche col Game Boy Color. Queste nere sono cartucce del Game Boy Color, ma sono compatibili ovviamente anche sul Game Boy normale. Queste invece sono cartucce del Game Boy Color e sono compatibili esclusivamente sul Game Boy Color, anche perché nel Game Boy normale non vanno dentro. Perché la differenza è appunto che nel Game Boy, questa qui va dentro e il Game Boy si riesce ad accendere. E invece questa qui si va dentro, ma il Game Boy non si riesce ad accendere perché quella non ha appunto questo taglietto qua in alto, che fa sì che questo perno vada dentro, vada a inserirsi nella cartuccia. Questa era una cosa che volevo specificare perché in molti sbagliano dicendo che questa è del Game Boy, invece no, questa è del Game Boy Color. Queste sono quelle del Game Boy. Tornando alla collezione, il primo titolo per Game Boy è il primissimo Super Mario Land. Il secondo titolo nella mia collezione è Super Mario Land 2 Six Golden Coin. Poi abbiamo due versioni di Tetris, una è in italiano e l'altra è americana, io avevo quella in italiano. Quell'americana l'ho presa in un altro lotto di giochi, ho il gioco pressoché è uguale. Poi abbiamo questo gioco qui che è The Incredible Crash Dummies, non so cosa sia. Un gioco che ho preso appunto in una serie, in un bundle di altri giochi. Abbiamo il gioco Mortal Kombat 2, poi abbiamo il gioco dei Teeny Toon, Teeny Toon Adventures Baby Big Break. Poi abbiamo PGA Tour 96, un gioco del golf. E l'ultimo titolo del Game Boy normale che ho io è Mickey Mouse. Poi abbiamo l'unico titolo Game Boy Color compatibile anche con il Game Boy normale che ho, a parte la serie Pokémon, è questo Hollywood Pinball, Army Man, UEFA 2000, un gioco di calcio. Harry Potter e la Pietra Filosofale. Bob aggiusta tutto, aggiustalo. Il mitico Wario Land 3 e il Grinch. L'unico gioco che ho boxato è questo Dragon Ball Z, il leggendario Super Guerriere, che ho in tre copie. Una boxata, che è la mia di quando ero piccolo. E due così che ho preso, erano dentro assieme ad altri pilotti, quindi li ho presi. Intanto alla fine non è male come gioco, è abbastanza divertente. E poi comunque appunto era dentro assieme agli altri giochi. Passiamo ai titoli per Game Boy Advance. Abbiamo The Legend of Zelda, Link to the Past e più Forrest World. Abbiamo Mario e Luigi Superstar Saga. Della serie NES classica abbiamo il primissimo The Legend of Zelda. Poi sempre della stessa serie abbiamo Pac-Man. Poi abbiamo, questo qui dovrebbe essere giù per il tubo. Madagascar e anche Madagascar per le azioni pinguine. Gli incredibili, una normale famiglia di supereroi. Gang del Bosco, questo qua me l'hanno dato così a un GameStop, di cui non avevano più la scatola, ma avevano appunto il gioco col libretto e me l'hanno dato su in questo modo qua. Sempre derivanti da film, penso che siano derivanti da film. Abbiamo Spider-Man, comunque le cose in cui sono stati tratti anche film. Abbiamo Spider-Man, Mysterious Menace, X-Men, Regno of Apocalypse, X-Men 2, Wolverine's Revenge, Frinter Cell, Pandora Tomorrow, Jurassic Park 3, The DNA Factory, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Due copie di FIFA 2007, Maybelline V-Force, Tekken Advance, Tartaruga Ninja, Altered Beast, Guardian of the Realms e l'ultimo lose è Wrestling Survivor Series. Adesso passiamo a quelli boxati. Abbiamo Tuck e la Magia Juju con la sua cartuccia, ovviamente dentro anche i libretti. Van Helsing, sempre tratto dal film. Poi abbiamo Pirate dei Caraibi, La Maledizione delle Forziere Fantasma, questo è ancora sigillato. E poi abbiamo Super Mario Advance 4, Super Mario Bros 3, che ho dimenticato di tirare fuori, quindi ve lo faccio vedere così. Questa cartuccia. Poi ci sono anche vari libretti qua che non sto a tirare fuori. Bene, con questo si conclude la serie di videogiochi riguardante Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Detto questo io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.